Ciao a tutti ragazzi e ragazze, vediamo un nuovo video, io sono Marisa e oggi faremo un nuovo video. Qua abbiamo delle penne, una penna e una penarella, poi abbiamo una forbice, dei fogli, abbiamo dei barattoli e dei colori, a noi servono i penarelli. Vi chiederete, cosa faremo? Scriveremo sui fogli dei hobby, gli hobby sono le cose che ci piacciono più fare e quando le facciamo, cioè le dovremo fare ogni giorno, quasi ogni giorno, e poi le metteremo qua, ma prima lo decorreremo. E vi ricordo, sotto nei commenti ci scrivete se volete essere salutati nei nostri video e alcuni challenge che volete che facciamo. Ok, adesso... Qual è il diamante con me che mi potrà aiutare per farlo più bello? Ok, adesso iniziamo a decorarlo. Questo è il mio, vasetto. E questo è il mio, con fiori e una scritta. Poi il mio, così. E qua... E qua, ecco. Ok, iniziamo. Vai a iniziare te. Quale parole vuoi? Pesco di sola. Non so. Cos'è? Sì, perché è il mio colore preferito anche il rosso. Io vado a scegliere il giallo. Dopo io sceglierò il rosso dopo. Ok, iniziamo a colorare. Inizio a colorare... Vediamo. Faccio prima... Scrivo il primo mio nome. Vabbè, oppure... Coloro qua. Io coloro tutte le scritte che c'è. Adesso io, guardate che l'ho fatto, sto facendo un arcobeleno, anche se non ho iniziato dal rosso. Vabbè, lo faccio pure il foglio. Ok, lo faccio qua. Io ho fatto tanto fuori. Guardate. Il carattolo. Io non ho ancora. Qua ho fatto la scritta viola e giallo. E qua ho scritto il mio nome. E ho fatto il polizino. E poi qua. Così. Ok, ho fatto. Aspettiamo l'orella e dopo iniziamo a scrivere. Adesso... Mi manca solo l'ultimo colore. Solo tre faccio. Vai. Il verde. Questo qua mi piace. Il verde. Prendi. Aspettiamo l'orella e iniziamo a scrivere. Adesso... Ecco fatto. Adesso l'orella è finita. Non si vede tanto l'arcobalena e anche il quadricchino. Ma non si vede tanto. Ma vabbè. Adesso scriviamo su questi fogli i nostri hobby. Inizio a scrivere io. Disegnare. Puoi scegliere anche i miei. Quelli che fai più spesso. Adesso... Apro questo. Ok, ho finito di scrivere. Ho scritto qua disegnare. Che ho già disegliato. Poi ho scritto cantare, ascoltare musica, studiare, disegnare, creare, colorare, decorare. Adesso vado a ritagliare anch'io. Ritagliare l'ultimo momento. Vabbè, adesso spezziamo che lo la tagli. E dopo li mettiamo qua e li inseriamo così. Ok. Adesso tolgo io. Quattro. Ho scritto qua. Ho tutti giù qua. Tagliato. Quattro. 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 Andremo a pescare qua e faremo quella cosa. Fatto. Alida, hai finito? No. Aspettiamo un momento. che finisca perché prima dicevo lei, adesso io. Vabbè, hai iniziato prima. Ma c'è. Non è venuta in mezzo. Stiamo aspettando. Farai veloci però. L'ultima che ho scritto è pazzinare. Io a scuola non faccio mai. Perché non ho i pazzini. Ho i pazzini. Sì, andiamo a casa. Ma però a scuola no. A scuola no, ovviamente. Adesso chiudiamo. Questo lavoretto lo potete fare anche voi. E faccio così. E dopo ne andiamo a pescare qualcuno. Così. Prendiamo. Pronti. 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 Ok. Ok. Ecco. Prendiamo una. La mia sì, ci sta. E a ascoltare la musica. Quindi dopo ascolterò della musica. Disegnare. Guardate ragazzi. Disegnare. E questa è la mia. Adesso posso disegnare con la foglia. Il foglio. Mi dice un po' cantare. Eh no. Cantare. Ascolterò la musica. Però vabbè. L'ascolterò dopo. Ti devo pensare. Ti devo pensare. La metto qua dentro. Io ho già finito di ascoltare la musica. Tanto io faccio una casetta. Ho pensato di fare una casetta. Coloro. Mi piace colorare. Provo a vedere se c'è un altro hobby. che ne è sì. Che ne è sì. Ascoltare la musica. E dopo. Colorare. Mamma. Ok. Ho pensato. se Aurelia sta disegnando. La casa. Io potrei colorarla. Per un'arcobalena. No. Colorare la sua casa. Intanto colorerò tutta. Non proprio tutta. Perché lo faremo anche le finestre. azzurro. Che qua c'è l'azzurro. Ma l'idea non so più male. Perché? Non faccio metà metà. Metà di un colore. Metà dell'altro. Ok. Ci sto. Perché a me piace la colore. Non so che non c'è il rosa. Ok. Ho fatto questa carta. Colorato. Un po' ha colorato bello. Qua è morbidoso. E qua. Questa che mi fa. Fortunata. Adesso faccio la porta. Per cui ho scelto questa maglia. E poi è bella. Ok. Adesso me ne sta disegnando. Qua non posso fare le finestre. Perché mai si ha un'altra. Guarda. Un'idea. Un'idea. Ecco. Ma qua è più chiaro. Quindi sembra la notte. Vabbè. Prendo. Tornata. 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 O c'è qua. Perché sembra il tono adesso? Eh perché. Azzurro e rosa. Forma il viola. E qua. Aggiungo il blu. Colodiamo. Si falla anche qua il blu. Così dopo sembra la notte. Lo sai. Ok. Ok. Ho finito la casa. Guardate. Questa è la casa di Aurella. Salutiamo Rihanna che voleva essere salutata in un nostro video. Ti mandiamo un grosso bacione. Se volete essere anche voi salutati scrivetelo giù nei commenti e se sarete salutati in uno dei nostri video. Questo lo volete lo potete fare anche voi a casa e mi ricordo che potete farlo come volete voi. Potete farlo anche meglio di noi. Questo video finisce qua ma prima mettete un like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao!